Diamo la parola al Consigliere Luigi Abbeata, prego nella facoltà. Qui questi numeri relativamente all'attuazione del piano sociale di zona 2022-2024 mi incuriosiscono relativamente alla voce 25 milioni e con riferimento alle altre risorse aggiuntive, ben vengano le tante e varie risorse aggiuntive, ben vengano i fondi di varia provenienza, la capacità di un'amministrazione è quella anche di saper cogliere ed intercettare i fondi. E parlando di fondi l'occhio cade, scusate forse una mia deformazione professionale, chiamiamola e chiamatela così, ai fondi ex silva, perché quando io sento fondi ex silva mi si addrizzano quei pochi peli in testa che mi sono rimasti. Se consideriamo come sono stati usati i fondi ex silva, a mio avviso scialacquati durante il periodo natalizio, perché quei fondi che dovevano servire come ristoro per i disastri ambientali e sociali provocati dalla grande industria assassina di ex silva, prime acciaierie d'Italia oggi, industria assassina, criminale. Ma al di là di questo, di questa mia valutazione sull'azienda, abbiamo notato nel periodo invernale, nel periodo natalizio o meglio, questa distrazione di fondi verso finalità che evidentemente poco o nulla attenevano al sociale o potevano avere una ricaduta sociale in senso molto ma molto ampio e generico e dilatato, perché le feste e festine natalizie certamente non danno ristoro ai tarantini per il disastro ambientale. Se poi si considera che quasi tutti gli eventi finanziati attraverso i fondi ex silva hanno avuto la loro realizzazione, la loro location paradossalmente in aree che non erano certamente il quartiere Tamburi, a questo punto vorrei sapere la finalità come vengono gestiti questi fondi ex silva, perché se noi li chiamiamo fondi ex silva dovrebbero avere una destinazione vincolata rispetto al ristoro ambientale e sociale, non certo possono essere distratti ed indirizzati verso altre finalità attinenti allo spettacolo, ma al divertentismo quasi, che però nulla hanno a che fare con quella che è la finalità sociale e allora a questo punto io quando sento piano di zona vorrei sapere bene cosa è rimasto di questi fondi ex silva e in che misura, in termini proprio quantitativi di questi fondi ex silva verranno questi fondi ex silva verranno appunto proiettati, dirottati nel piano di zona. Grazie. Grazie a lei consigliere Luigi Abate. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.